Ok, ciao a tutti, benvenuti su un altro video. Oggi faccio mia analisi per Mr. Olimpia, per i joggin, praticamente io per Mr. Olimpia. Ieri ho fatto la diretta live, ho guardato in diretta, però ero troppo stanco dopo per fare i video. E stasera i finali iniziano da all'una e mezza stanotte. Comunque iniziamo con i primi tre. I primi tre sono Samson Dauda, Derrick e Hadi Chupan. Si vedeva l'interfosismo fra questi atleti perché continuavano a venire in avanti in avanti per farci vedere ai giudici. Infatti i giudici una volta è pure incazzato dire loro state in linea di là, non dovete venire per forza avanti, noi lo vediamo da qua. Però io credo che i giudici non si sa chi dà questo premio perché hanno fatto tutti e tre girare veramente tanto. Prima una volta c'era Hadi in mezzo, dopo hanno spostato Hadi, hanno messo Derrick Lansford, dopo hanno spostato Derrick Lansford, hanno messo pure Samson Dauda. Quindi secondo me stanno dando tutti e tre le stesse opportunità, può essere così, o magari loro non sono ancora convinto che deve vincere. Perché da qua non si capisce niente veramente, nessuno lo sa che vincere l'Olimpia. Almeno di solito dopo i più junior tu dici ah questi qua sono i primi due eccetera. Però no, 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 non hanno detto uno di tornare in linea, hanno sempre fatto comparazione a fare loro tre. Però i primi sei erano Andrew, Jack, Samson Dauda, Derrick Lansford, Hadi Chupan, Bendy Corey e Hunter Labrada. E qua si vede che loro sei erano su linea qua in questo video. Praticamente hanno fatto un altro call-out dove c'era Andrew Jack in mezzo, Hunter Labrada, Michael Criso, poi hanno chiamato Michael Criso pure in mezzo. Poi c'erano anche gli altri, però non mi ricordo totalmente il loro nome adesso. Poi c'era un altro call-out che era l'ultimo call-out. Secondo me i primi undici che Andrea Presti era in mezzo in quello call-out lì. Andrea Presti, Teo Le Guerra, Fritz, gli altri che non mi ricordo il loro nome pure. Quindi non credo che Andrea Presti sarà sui top ten questo anno, però sarà appena, appena, appena fuori top ten. Perché anche lui si è migliorato tantissimo, veramente, veramente non lo aspettavo. Sui gambe sembra molto, molto migliorato, però questi top sei sono un pochino avanti. Anche se io non sono d'accordo che Hunter Labrada dovrebbe essere su questo top sei. Secondo me deve essere Michael Criso perché Michael Criso è molto, 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 molto più, secondo me è più bello, completo. Anche Michael Criso è venuto con una condizione veramente, veramente bella. Quindi secondo me non è ancora finito, però secondo me Michael Criso entra in questo top sei. Anche se si migliora stanotte, siete in questo top sei. Quindi secondo me i primi quattro, diciamo i primi cinque di adesso, è Sam Sendauda, Derrick Slansford, Hardy Chupan, poi Andrew Jack e Brandy Corey. Però Andrew Jack e Brandy Corey non si sa chi è quattro o quinto. Quindi ditemi la vostra cosa ne pensate di questi video. Se non sei ancora iscritto sul canale, iscriviti sul canale. Oggi alle tre mezza nostro tempo iniziano i pre-joji di classic physique, poi band physique, poi fanno anche witcher e poi fanno un'altra categoria di donne. Non mi ricordo veramente adesso perché regalo, metto pochissimo. Ci vediamo nel prossimo video, sono Terri Nati. Iscriviti sul canale se non sei ancora iscritto, mi dai una grossa mano. Let's go! Iscriviti al canale.